Ci sono opere davvero misteriose che, nonostante i tentativi fatti dagli storici dell'arte per farli parlare, per farci rivelare la loro vera storia, continuano, a rispetto dei secoli trascorsi, a mantenersi assolutamente inintellegibili o almeno ad avere ancora quella alone di mistero che tanto affacina. E' il caso in particolare di questo celeberrimo dipinto titolato I coniugi Arnolfini, realizzato dall'artista fiammingo Jan van Eyck. Allora, è un'opera custodita alla National Gallery di Londra dal 1843, poi vi racconterò anche la storia dei trasferimenti di questo dipinto che ci permetteranno da un certo punto di vista di attraversare i secoli della storia europea dal 400 fino all'800. Quindi è molto affascinante anche per questo motivo, ma vi dicevo l'opera custodita alla National Gallery di Londra e io vi do sempre questo consiglio, quando potremo di nuovo viaggiare liberamente andate a Londra e ogni volta che passate da Londra andate a vedere una sola opera di un artista che scegliete perché la National Gallery è sempre gratuita. Quindi potete fare gli snob, entrare, vedere un'opera e uscire, è una scelta molto bella, ovviamente anche più di una. Parliamo di questa opera, il ritratto dei coniugi Arnolfini, dicevamo, realizzato dall'artista fiammingo Jan van Eyck, di cui non abbiamo notizie molto chiare. La data di nascita viene fatta coincidere in un periodo che va dal 1390 al 1400, sappiamo che morirà nel 1441 a Bruges. La città di Bruges è legata all'opera che vi sto per presentare. Guardate, intanto la data è 1434. Nessuno dei dati che vi proporrò in questa presentazione è da lasciare in secondo piano perché vedrete che l'opera, tenteremo di analizzarla, mostrerà tante ipotesi ricostruttive e ognuna di queste si basa su ciò che noi vediamo, sui dati che abbiamo, sulle date che abbiamo. E la data è un elemento importante. Allora, partiamo da ciò che si sa. Dicevamo, è opera realizzata da Jan van Eyck, questo artista fiammingo ricordato da Giorgio Vasari in particolare come colui che avrebbe inventato la tecnica della pittura a olio. Noi sappiamo che non è esattamente così che sono andate le cose, però è anche vero che in particolare Jan van Eyck e la sua scuola e la sua bottega e gli artisti fiamminghi che ruotavano intorno a lui, a Bruges in particolare, questa città del nord delle Fiandre, del Belgio attuale. Ecco, noi sappiamo che davvero loro cominceranno, lui e i suoi allievi cominceranno a impiegare davvero la tecnica a olio e a diffonderla in tutta Europa, dalle Fiandre, in Italia e poi un po' dappertutto. Jan van Eyck si era formato, verosimilmente, anche come un miniaturista. I miniaturisti erano coloro che disegnavano, decoravano i manoscritti, li arricchivano e ricordiamoci che questo termine miniatura prende il suo nome dal colore minio, il colore rosso che molto spesso era presente per segnare le lettere dei capoversi o come in questo caso, con questo colore squillante che vediamo, del letto ballacchino rosso. Ora, il miniaturismo è interessante per noi perché i pittori miniaturisti andavano a lavorare curando le minuzie più estreme, i dettagli infinitesimamente piccoli, non riesco a dirlo, infinitesimi, non riesco a dirlo, quelli lì piccolissimi. Quindi questo è importante per noi, lo vedremo perché appunto la tecnica olio di cui vi ho già parlato in un altro video permetteva proprio l'indagine analitica della realtà andando ad indagare ogni singola minuzia. Ma di questo meraviglioso foglio 93 del libro d'oro, d'ore, non d'oro scusate, d'ore miniato realizzato appunto da Jan van Eyck parleremo tra un po' perché torneremo a guardare questa immagine per trovare delle corrispondenze con l'opera che invece dobbiamo analizzare, cioè i coniugi Arnolfini. Allora, partiamo innanzitutto dall'ambientazione, facciamo sempre così. Che cosa vedete? Innanzitutto vi farei questa domanda e la vostra risposta sarebbe beh, ci sono un uomo e una donna in piedi all'interno di uno spazio domestico che si tengono per mano, o meglio lui ha la mano aperta e lei appoggia la sua aperta sul palmo di lui. Lui ha una mano alzata, la mano destra alzata in un gesto che sembra quasi di reverenza o di saluto. Lei invece si tiene la veste arricciata, un po' arrotolata sul ventre. Sono tutti indizi che ci teniamo lì per il momento. Guardate però a questo punto, se l'ambientazione è domestica, cerchiamo di vedere se l'artista ha rispettato un qualche criterio per, geometrico magari, per la costruzione della sua composizione. Allora, noi abituati a studiare l'arte italiana, come prima cosa a questo punto cercheremmo di capire se anche in un'opera come questa è presente la prospettiva. E a colpo d'occhio ci sembrerebbe che ci fosse, perché voi vedete appunto che tutti gli elementi io ho insegnato alcuni elementi dei travetti, del soffitto, quel letto a baldacchino, sembrerebbero rappresentati in prospettiva. Ma qui c'è il primo colpo di scena. Sì, perché? Sì, c'è una prospettiva, ma diciamo che ci sono più punti di vista. Siamo molto lontani dalla prospettiva scientifica Brunella Schiana. Guardate, c'è almeno un punto di vista che coincide con la parte alta di quello specchio che vediamo sul fondo, un secondo punto di vista che coinciderebbe, che è quello che ho disegnato di questo specchio della finestra, che va a coincidere con il centro perfetto di quello specchio. E ancora, guardate, se noi proviamo a unire le linee della finestra al di sotto, di questa cassa panca che c'è qui a sinistra, o i listelli del pavimento in parquet, diremmo oggi, questi listelloni di legno, vedete che, i listelli oppure guardate anche il tappeto, vedete che allora sì, ci sono lo spazio costruito secondo una prospettiva, ma ci sono più punti di vista. E questo è molto interessante perché ci rivela tanto del mondo fiammingo. È un po' come se l'artista volesse dirci che non tutto è riconducibile alla razionalità, alla centralità dell'uomo. L'uomo, in fondo, è solo una parte del creato. E vedrete che in quest'opera, che è affastellata di ogni possibile oggetto simbolico, significativo, sembra davvero dare ragione a questa mia affermazione. Quindi, uno spazio che è sì organizzato in senso prospettico, ma con una prospettiva che, come vedete, non ci fa focalizzare in un punto unico, centrale, come faceva la prospettiva Brunelleschiana, ma abbiamo una moltiplicità di punti di vista, che forse coinvolge lo spettatore alzando e abbassando lo scenario, e quindi quasi abbracciandoci, un po' come se ci fosse la scena rappresentata con il fisciai, il grand'angolo che allarga lo spazio, e allora noi ci sentiamo un po' abbracciati. Guardate però la postura dei due personaggi. Anche loro sono messi in senso prospettico per invitare lo spettatore. Vedete che sono entrambi posti di tre quarti. In questo modo creano quasi una sorta di semicerchio aperto verso lo spettatore, che quindi è invitato a entrare. Vi presento a questo punto i personaggi. A sinistra vediamo Giovanni Arrigo Arnolfini. È stato identificato con questo personaggio, ed ecco che appunto la tavola dipinta a olio su legno prende questo titolo, i coniugi Arnolfini, perché questo Giovanni Arnolfini sarebbe stato, era un mercante di origini lucchesi, cioè toscano, che se n'era andato a far fortuna con la sua famiglia a Bruges. Bruges, vi dicevo, era una città particolarmente ricca e vivace nel XV secolo, perché ospitava personaggi del mondo, oggi diremmo, della finanza, e imprenditori, ecco, grandi imprenditori e uomini della finanza. C'erano appunto tanti banchieri, c'erano tantissimi mercanti, italiani, inglesi, francesi, tedeschi. Era davvero un crocevia, un luogo molto stimolante, affollato, dove davvero la componente economica permetteva di ottenere una bella vita, ed era quello che appunto Giovanni Arnolfini aveva potuto ottenere. Uno dei grandi obiettivi di questo dipinto, per quanto, ripeto, quando finiremo di fare la lettura della nostra opera, forse rimarremo col punto interrogativo, cioè qual è il vero significato dell'opera in sé, ma il significato evidente che posso per certo darvi da subito è proprio quello che Giovanni Arnolfini, committente dell'opera, avesse chiesto a Jan van Eyck di far emergere il lusso, il suo status sociale, mostrare la ricchezza che lui poteva permettersi. Guardatelo, Giovanni Arnolfini, in questo caso, non soltanto vedrete, sarà circondato da oggetti preziosissimi, che provenivano da luoghi diversi d'Europa o del mondo addirittura, vi farò vedere alcuni dettagli più avanti, ma in questo caso vedete che lui indossa una costosissima pelliccia di marmotta, e indossa un cappello di feltro. Guardate innanzitutto anche la incredibile capacità pittorica, dicevamo la pittura a olio riesce a far brillare dall'interno il colore, scendendo fin sotto al livello dell'imprimitura chiara. Guardate la pelliccia, sembra di vedere la singola pennellata che permette di evidenziare il singolo pelo di questo abbigliamento così prezioso, evidentemente davvero per valorizzare lo status sociale, per vantarsi, ecco così. Chi è invece la donna? Ecco, qui si aprono i misteri, perché la maggior parte degli storici dell'arte la identificano come Giovanna Cenami, anche lei lucchese, e era la seconda moglie di Giovanni Arnolfini. Però parlo mantenendo un po' l'area di ipoteticità, perché vi svelo subito che uno studioso si è imbattuto inaspettatamente nel 1994, quindi abbastanza di recente, in un documento che proverebbe che in realtà il matrimonio tra Giovanna Cenami e Giovanni Arnolfini si è celebrato non prima del 1447, quando Van Eyck era già morto, era morto nel 1441, e vi farò vedere poi che sulla parete di fondo compare la data 1434, quindi probabilmente non si tratta di Giovanna Cenami, o forse qualcuno ha proposto l'ipotesi di un fidanzamento tra i due, perché vedete che i due vengono rappresentati in questa postura che dicevamo quasi come se si stesse celebrando una funzione davanti ai nostri occhi, come se noi fossimo i testimoni oculari di un matrimonio, o forse una promessa di matrimonio, un fidanzamento. Guardate intanto lei com'è, ci torneremo poi, guardate intanto lei com'è vestita, ha questo abito molto ricco che è stato identificato, gli storici dell'arte si sono scervellati per trovare ogni possibile riferimento, qualcuno ha identificato l'abito come un vestito di lana all'esterno e con uno strato di pelliccia o di ermellino che è preziosissimo, pensate che gli abiti papali che vedremo rappresentati in tanti dipinti cinquecenteschi mostreranno la pelliccia di ermellino per il papa, oppure qualcuno ha proposto l'ipotesi di questa pelliccia di scoiattolo rosso, e secondo calcoli, sempre di questi storici dell'arte che ci hanno messo evidentemente un grande impegno, è venuto fuori che potevano esserci, esser stati impiegati qualcosa come duemila scoiattoli per ottenere questa pelliccia, per questo abito. Come vedete davvero parliamo di qualcosa di, evidentemente bisognava mostrare, vantare la ricchezza, sicuramente. Parleremo poi, più avanti, quando vi mostrerò il primo piano, di come lei è dei gioielli che indossa e del copricapo che ha. Quindi abbiamo detto, verosimilmente Giovanna Cenami. C'è una seconda ipotesi che vi tengo per momento in sospeso. Continuiamo la nostra analisi. Dove è ambientata la scena? Dicevamo, la scena è ambientata in uno spazio domestico. Sembrerebbe a colpo d'occhio addirittura una camera da letto, perché vedete che sulla destra compare un letto rosso a baldacchino. Letto su cui si proietta, vi faccio già vedere, questa ombra un po' scura di lei, quasi un po' con questo senso di inquietudine che viene così buttato lì. E vedete poi al centro, c'è invece questa sorta di divano, altrettanto rosso. Noi sappiamo il rosso essere un colore importante, prezioso, che però per qualcuno evocava la passione, visto che i due stavano per congiungersi verosimilmente in matrimonio, o forse il richiamo al sangue, la perdita di virginità di lei. Vi ho evidenziato in questa immagine anche le ciabattine rosse che sono ai piedi di questo divano e il tappeto. Eccolo qui, il tappeto in particolare, guardate l'incredibile lavorazione permessa dalla pittura a olio. Non vi ho detto le dimensioni di questo dipinto, perché voi potreste dirmi vabbè ma sì, questi dettagli sono minuziosi, ma il dipinto potrà essere enorme. Il dipinto è grande, 81,80 cm per 59,40. 80 per 60, più o meno. Stiamo parlando di dimensioni interessanti, ma decisamente, guardate, questo è un dettaglio minuscolo di questo tappeto. Ecco, vi dicevo, il tappeto è stato identificato come un tappeto di fattura turca, una manifattura che proveniva dall'Anatolia, proprio a testimonianza che questo uomo che faceva il mercante, aveva contatti con il mondo, si circondava solo di oggetti di un certo livello. Ma ancora, eccole le ciabattine che vi evocavo prima. Perché sono state inserite nella scena? Allora, sono delle ciabattine o di pelle o di raso, rosso, ancora una volta il colore rosso, ma sono delle ciabattine domestiche, da casa. Non soltanto sono appoggiate, come dire, sul fondo del pavimento della stanza, là in fondo, lontano dall'ingresso, anzi dall'uscita verso l'esterno, ma sono ciabattine, appunto, che evocavano una vita domestica, per la donna, evidentemente. Mentre, in primo piano, sulla sinistra, vi faccio notare la presenza di questi due bellissimi zoccoli di legno, anzi, secondo la maggior parte dei, secondo gli esperti, erano delle specie di parascarpe, cioè, si usava a indossare delle scarpe di pellami delicatissimi, molto preziosi, e poi, queste scarpe venivano infilate all'interno di questi zoccoli per essere riparati dagli effetti dell'esterno. E questo, però, mi serve anche a farvi capire che, se entrambi hanno lasciato, si sono tolti le scarpe, come dire, beh, lo facciamo anche noi, no? Quando entriamo in casa, tendenzialmente c'è l'idea non solo della comodità, ma anche un'idea di mantenere lo spazio pulito, di mantenere una sorta di luogo incorruttibile, lasciare fuori lo sporco che può esserci ed entrare in uno spazio che invece è molto più protetto e pulito. E in questo senso, a parte questa bellezza di queste, guardate le venature rappresentate di questi zoccoli, ma in questo senso, allora, vorrei citarvi un passo dell'Esodo in cui, appunto, nel dialogo con Mosè, Dio gli dice non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Questo significa che, evidentemente, Ian Van Eyck ha voluto evocare quasi la santità. Allora, se la casa in cui si sta celebrando questo matrimonio può essere paragonata quasi a un luogo santo, allora, forse si sta dicendo che lo stesso matrimonio deve rivelarsi quasi come un vero e proprio sacramento, quale dovrebbe essere all'interno della vita di un cristiano. Se c'è una scelta di un matrimonio religioso è perché è un sacramento, quindi un luogo di santità. Questa ipotesi vedrete che tornerà. Vi faccio notare a questo punto la meravigliosa finestra che troviamo sulla sinistra. Ve la faccio notare per diversi motivi. Intanto, guardate in alto. non l'ho ingrandito in questo caso, ma vedete che compaiono dei vetri a occhio di bue in alcuni casi decorati con dei colori. Queste vetrate erano rarissime. Anche soltanto avere le finestre chiuse dei vetri era rarissimo. Ma quindi questo ci dice proprio ci parla di uno lusso estremo in cui i due coniugi vivevano. E poi vi mostro questo dettaglio anche perché ecco ingrandisco un po' guardate vedete che da questa finestra aperta guardate che meraviglia gli stipetti gli scuri aperti in due parti una parte sotto una parte sopra in parte semi aperti in parte chiusi modulati come se fosse davvero una scena normale guardate di fianco allo scuretto che noi vediamo appunto a sinistra c'è una fessura di luce da cui intravediamo lo spazio esterno guardate la minuzia la cura del dettaglio tipica fiamminga ma vedete che allora da fuori compare un albero carico di ciliegie anche questo è interessantissimo perché il ciliegio era visto come l'albero simbolico dell'amore perché i suoi frutti rossi erano evidentemente legati ai frutti della passione o forse l'evocazione dei figli così come sono alberi che fanno i loro frutti i cui frutti maturano in primavera allora forse vengono proposti delle simbologie che possono esserci utili a interpretare l'opera da un lato potrebbe essere un legame con una promessa di fertilità e quindi tante volte si usavano i ciliegi anche nelle rappresentazioni delle natività o come simbolo del paradiso terrestre teniamoci per un attimo in mente questo discorso della natività vi faccio vi cito allora un passaggio non un'opera un passaggio del Cantico dei Cantici in cui si dice si parla di questo ortus conclusus questa sorta di giardino chiuso che spesso viene impiegato come metafora per il matrimonio e per la purezza femminile giardino chiuso tu sei sorella mia sposa giardino chiuso fontana sigillata a evocare evidentemente una qualche forma di purezza e di virginità però a questo punto vi introduco una domanda che forse qualcuno di voi già si è posto ma lei è incinta no perché qui cominciamo allora con i gossi perché allora abbiamo detto che intanto vi ho detto Giovanni Arnolfini ha avuto due mogli la prima si chiamava Costanza 30 ma morirà nel 1433 l'opera del 1434 interessante ma questa donna chiunque questa sia Giovanna Cenami o Costanza 30 era incinta allora forse questo è un matrimonio riparatore non credo perché allora tutti questi riferimenti alla purezza a questo luogo sacro al matrimonio come luogo di conservazione dello spazio di purezza mi sembrerebbe alquanto curioso e allora però voi potreste dirmi però c'è un letto matrimoniale rosso e vabbè ma se si celebra un matrimonio è chiaro che il talamo nuziale è il luogo da cui poi arriveranno i figli forse allora la presenza di questo letto è una sorta di augurio o forse il gesto che questa donna sta compiendo chiamiamola Giovanna o chiamiamola Costanza questo gesto che lei sta compiendo in realtà da un lato ci fa ci evoca l'idea di essere gravida incinta questo ventre gonfio dall'altro lato ci sono alcune considerazioni da fare prima di tutto la bellezza femminile del passato prevedeva le forme rotonde morbide abbondanti il ventre rigonfio era ancora di più simbolico di abbondanza salute e soprattutto benessere d'altro lato questo mettersi la mano sul ventre se da un lato solleva l'abito come si faceva era un gesto consueto poi ve lo mostrerò nel miniatura di cui vi parlavo prima dall'altro ovviamente ci evoca la gravidanza quindi forse comunque questa sua posizione potrebbe essere legata una sorta di promessa di generazione di figli ma andiamo avanti ad analizzare gli elementi presenti sulla scena abbiamo guardato la finestra con i ciliegi ora vi mostro che sul davanzale della finestra e appoggiati sulla cassa panca appena sotto sono presenti delle arance allora anche questo mi sembrerà curiosa come scelta in realtà pensateci siamo nel 1434 nel nord del Belgio le arance sono appena arrivate in Europa e sono in realtà un frutto del sud dell'Europa e non crescono in Belgio quindi erano un frutto prelibatissimo preziosissimo quindi da un lato ancora una volta ci servono per evocare questa ricchezza della famiglia dall'altro lato invece qualcuno ha voluto leggere le arance come simbolo dell'annunciazione in alcuni casi in alcuni dipinti vengono collegati alle mele di Adamo e quindi c'è di nuovo un riferimento come se questo spazio sacro fosse preservato dal peccato originale di Adamo e Deva e allora anche questo è sicuramente un indizio interessante vi mostro altri indizi e qui scendiamo un pochino più sul boh tecnico vediamola così vi ho in questo momento segnalato la presenza di questa sculturina a coronamento del letto o meglio di quel mobile che c'era quello stipolo in fondo decorato eccola qui questa statuina in preghiera è stata identificata da un lato come Santa Marta Santa Marta viene ricordata spesso come patrona della casa ma in realtà l'interpretazione più verosimile è che questa Santa rappresentasse invece Santa Margherita di Antiochia chi era Santa Margherita di Antiochia allora era una Santa Martire morta giovanissima che si era convertita al cristianesimo ed era stata per questo imprigionata e durante la prigionia era stata visitata in carcere dal demonio sotto la forma di un drago che l'aveva divorata ma lei aveva in mano il crocifisso e grazie a questo crocifisso era riuscita a sventrare la pancia del drago e a uscirne ecco perché da dentro era riuscita a uscire dalla pancia del drago e era riuscita a uscirne ecco perché Santa Margherita di Antiochia viene normalmente identificata come la patrona delle partorienti e allora voi mi dite ma loro è incinta beh insomma questa evocazione della nascita sicuramente è nell'aria a riprova che Santa Margherita di Antiochia fosse una santa venerata a Bruges vi mostro un meraviglioso e nonché famosissimo trittico il trittico Portinari realizzato da un altro artista fiammingo che si chiama Ugo Van Der Goers realizzato appunto per un altro toscano che aveva grandi affari a Bruges che ha vissuto in parte a Bruges la famiglia Portinari appunto la durazione dei pastori vi faccio vedere che nello scomparto di destra questa opera è oggi agli uffizi a Firenze nello scomparto di destra guardate un po' ci sono le figlie del comitente inginocchiate e alle spalle due sante quella che vedete a destra con l'urna con l'olio in mano è la maddalena una maddalena fiamminga guardatela non la riconosceremo mai con questi capelli raccolti mentre di fianco a lei c'è proprio Santa Margherita di Antiochia che ha la croce in mano e guardate soprattutto ai suoi piedi non ve l'ho cerchiato mi sono dimenticata ai suoi piedi vedete che c'è la testa del drago il mostro che lei è riuscita a sconfiggere con la croce tra l'altro vi segnalo che a Bruges sono custodite alcune reliquie della Santa le reliquie della Santa sono disperse un po' ovunque erano molto ricercate ma anche a Bruges c'è qualche sua reliquia reliquia del suo corpo quindi davvero a testimonianza che davvero potrebbe essere Santa Margherita d'Antiochia il personaggio rappresentato là in fondo ancora vi mostro questo oggetto appeso al muro una sorta di scopa chiamiamola così una sorta di verga che serviva verga la cui parola gioca con virgo quindi no quella verginità di lei ma sicuramente uno strumento che serviva a mantenere pulito uno scopetta che serviva per mantenere pulito lo spazio e ancora una volta scacciare via tutto ciò che era negativo non a caso forse posizionato proprio al di sotto della figura di Santa Margherita di Antiochia spazzare via tutte le influenze maligne e negative e mantenere la purezza la pulizia che coincide con la purezza evidentemente ancora strepitoso guardate al centro della scena compare questo candelabro realizzato da Jan van Eyck in modo magistrale stiamo sempre parlando di un'opera che ha delle dimensioni contenute guardate il modo in cui questo candelabro d'ottone brilli esattamente in risposta a quella luce che entra dalla finestra che noi vediamo a sinistra guardate i riflessi meravigliosi che scivolano sulle parti in ottone guardate la parte sotto dove c'è l'anello quello forse vedete che è il muso di un leone ogni singola parte potremmo davvero divertirci a riconoscerla insomma a qualche modo a rifletterci sopra ho sbagliato mannaggia lo rifaccio rifaccio il gioco ecco perché vi volevo mostrare in questo caso un'altra cosa molto importante noterete che questo candelabro meraviglioso in sé ha soltanto una candela accesa e voi mi dite ma scusi però ci ho appena detto che questa opera doveva servire a mostrare a vantare la ricchezza della famiglia Arnolfini e poi questo che fa tiene la luce spenta una sola candela accesa evidentemente avete capito che la pittura fiamminga non è fatta soltanto della rappresentazione minuziosissima dei dettagli ma propone ogni oggetto per se stesso ma anche per i suoi valori simbolici e questo è meraviglioso perché è un po' come se fosse che le nostre case che sono zeppe di oggetti sono anche zeppe di oggetti che sono significati simbolici una tazza un astuccio una scarpa per noi significano tante cose molto spesso non gli diamo così tanto valore ma in questo caso gli oggetti di cui il personaggio si vuole circondare nel suo ritratto ufficiale sono tutti davvero altamente simbolici in particolare questa candela evoca vedete che è una candela che è l'unica accesa che evoca l'idea della candela sempre accesa della chiesa quindi ancora una volta un'idea di questa profonda religiosità come se il matrimonio l'unione di questi due promessi sposi o sposi davvero fosse tutelato dalla presenza di questa dalla luce del divino molto interessante che un candelabro di questo tipo mostrasse solo questo elemento ma ancora la scena veramente è pazzesca ecco qua vi dicevo sulla parete di fondo compare qualcosa di significativo molto interessante perché Jan van Eyck firma la sua opera scrivendo ve lo faccio vedere più in grande Johannes van Eyck Fuit Ick scrive in latino e ci dice Giovanni da Bruggia come diceva Vasari Jan van Eyck è stato qui 1434 ecco che allora la firma e la data compaiono però è curioso qui vedete molto bene la testa del leone che vi evocavo prima dalla parte bassa del candelabro ma è curioso perché se uno firma l'opera normalmente quando gli artisti firmavano le loro opere scrivevano Jan van Eyck fecit l'ha fatto Jan van Eyck invece qui c'è una sorta di testimonianza vero e proprio tag Jan van Eyck è stato qui c'è proprio il tag il segno del passaggio quasi un passaggio notarile sono stato qui e lo voglio far sapere molto interessante anche questo e poi vedete sotto la data ancora a questo punto concentriamoci su un altro dettaglio che sicuramente avete notato tutti subito in primo piano in piedi tra i due c'è un cagnolino eccolo qui guardate intanto la meravigliosa manifattura della pittura a olio ancora una volta con questi pennellini sottilissimi si potevano creare gli effetti pelo per pelo abbiamo quasi la sensazione di poter accarezzare la morbidezza di questo cagnolino ma il cagnolino posto tra i due ovviamente aveva un doppio significato da un lato era il cane di casa e avere un cane in casa all'epoca era un altro elemento di orgoglio e di lusso non era così diffuso ma noi sappiamo che il cane da sempre era legato al simbolo della fedeltà e allora se i due si stanno promettendo amore eterno visto che devono unirsi o in fidanzamento o in matrimonio beh allora è facile immaginare che il cane rappresenti la fedeltà coniugale quanti elementi quanto interessanti vi faccio vedere adesso qualcosa di pazzesco sulla parete di fondo compare un oggetto uno specchio convesso che rischia di capovolgere tutta la scena certo la capovolge perché ce la riflette ma al contrario guardate allora intanto vi dico che è uno specchio che nella realtà del dipinto misura 5,5 cm ma Jan van Eyck in questo specchio convesso nella cornice di questo specchio convesso dipinge le dieci scene della passione di Cristo ma era un oggetto quindi anche questo russuoso l'avere in casa di nuovo il matrimonio il legame filtrato dalla presenza della vita cristiana certamente ma vorrei farvi notare che all'interno dello specchio convesso quindi con questo effetto fisciai che evocavo prima il grand'angolo vedete che viene riflessa la stanza in cui si sta celebrando la funzione o meglio noi vediamo i personaggi rappresentati da dietro è certo è uno specchio intanto scopriamo che c'è una seconda finestra la cui luce veniva evocata perché veniva colpisce il pavimento in primo piano ma non la vedevamo rappresentata qui vedete la bellissima luce della finestra e poi vedete la luce che sfavilla sul candelabro in alto e vedete dal dietro Giovanni e Giovanna o Costanza appunto con i loro abiti che dovrebbero tenersi per mano anche se il legame delle loro mani risulta poco evidente però colpo di scena ci sono altre due persone presenti nella scena uno vestito con un abito blu uno vestito con un abito rosso o sono i due testimoni del matrimonio oppure ci viene facile pensare che uno di due sia lo stesso Jan Van Aik il pittore vi ricordate cosa c'era scritto sul muro Jan Van Aik fu i sono stato qui quindi quasi a testimonianza forse era il testimone di nozze nel senso di dire della scena o forse si nasconde un mistero ancora più complesso vi faccio vedere quali sono vi mostro velocemente quali sono le scene rappresentate nella cornice a partire dall'orazione nell'orto poi abbiamo la cattura di Cristo il giudizio di Pilato la flagellazione di Cristo la salita al Calvario la crocifissione la deposizione il compianto su Cristo morto la discesa al limbo e la resurrezione queste erano le classiche scene che si trovano in questi cornici di questi specchi ma è pazzesco perché Jan Van Aik riesce veramente a riprodurre tutto questo in questa dimensione piccolissima ora vi ho di nuovo inserito la scena così vedete ancora di più l'ingrandimento di fianco noterete che c'è un rosario appeso alla parete allora il rosario veniva spesso regalato come regalo di fidanzamento ma sicuramente in questo caso è anche un espediente che impiega Jan Van Aik per mostrarci la sua perizia tecnica guardate vediamo subito la trasparenza e il riflesso del vetro guardate che meraviglia quindi al di là dell'effetto simbolico dobbiamo anche occuparci della parte pittorica che è davvero strepitosa però davvero la scena si carica vedete anche le arance a rifless ogni elemento è riproposto tranne uno ma ve lo faccio vedere dopo ora che ci siano degli riferimenti e che certi oggetti inseriti abbiano un senso ve lo confermo mostrandovi appunto la miniatura da cui eravamo partiti all'inizio guardate nell'angolino in basso a sinistra vi ho evidenziato quegli zoccoletti o quei portascarpe salvascarpe che vi dicevo più o meno nella stessa posizione abbiamo trovato all'interno del ritratto dei coniugi Arnolfini e ancora in questa miniatura vedete che è presente un cane che sta giocando forse con un osso non lo so il cane di casa quindi di nuovo questa presenza tra la quotidianità e il simbolico e poi guardate questa donna rappresentata guardate si porta l'abito al ventre nella parte alta proprio come faceva Giovanna quindi davvero era un gesto consueto per il mondo femminile e ancora vi mostro questi vetri smerigliati non so se in questo caso siano davvero lavorati a occhio di bue come quegli altri però erano comunque decorati a raccontarci di nuovo di questa capacità di questa perizia di queste minuzie ma ancora vi mostro la presenza di questo letto rosso a baldacchino la presenza del letto rosso a baldacchino o comunque del letto a baldacchino poteva essere era presente nelle case degli uomini più abbienti delle famiglie più abbienti nelle fiandre non soltanto in camera da letto ma il letto a baldacchino talvolta veniva messo nel soggiorno o nella stanza d'ingresso della casa perché quando le donne partorivano ricevevano le visite in questo letto ancora una volta per mostrare per vantarsi della della novità cioè in questo caso del figlio che avevano partorito quindi in questo senso forse la scena acquisisce un altro componente interessante allora guardate intanto qui un po' ingrandito il tutto vi volevo parlare adesso un po' meglio dei due personaggi perché guardate il volto di Giovanni e quello di Giovanna o Costanza è stato realizzato da Ian Van Eyck un altro ritratto che è stato identificato proprio con Giovanni Arnolfini guardatelo veramente la fotocoppia anche in questo caso guardatelo vestito con abiti molto ricchi eleganti con questa pelliccia e con questo il capo in questo caso coperto da questo turbante rosso che era tipico della moda delle fiandre mentre invece per quanto riguarda la figura femminile la riconoscerete perché l'abbiamo analizzata per la pittura a olio vi ho inserito il ritratto della moglie di Ian Van Eyck Margareta anche qui vedete che il nome Margherita con Santa Margherita di Antioca in qualche modo il legame forse c'è perché vi ho inserito questo ritratto perché guardate l'acconciatura e il copricapo sono esattamente identici a quelli della nostra sposa in questo caso lei vedete che ha l'acconciatura raccolta in questi due cornetti che venivano fissati con dei fili di seta e ha questo velo in più strati di volant guardate poi i suoi gioielli ha una collana degli anelli dei braccialetti le cinture con il broccato d'oro davvero ha evocazione ancora una volta di questa ricchezza che vi dicevo prima intanto vedete un po' i dettagli che vi ho mostrato prima però 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 allora c'è chi dice che in realtà nel 1934 un storico dell'arte strepitoso che si chiamava Erwin Panofsky aveva proposto l'ipotesi che la scena rappresentasse appunto la scena matrimoniale con i due testimoni visti nello specchio che stavano celebrando assistendo alla scena questa teoria è stata un po' smontata nel tempo e in particolare allora c'è chi ha proposto un'ipotesi diversa se la prima moglie di Giovanni Arnolfini questa Costanza 30 era morta nel 1933 potrebbe essere allora che l'opera sia stata commissionata per ricordarla allora forse si spiegherebbe ve lo faccio vedere quello sguardo un po' mesto che lui ha severo e mesto e forse quella mano alzata quasi a un saluto in direzione della moglie verosimilmente la moglie dovrebbe essere morta per il parto quindi tutti questi legami con Santa Margherita di Antiochia i riferimenti alle ciliegie ai frutti forse davvero questo potrebbe avere un senso guardate anche lo sguardo la testa un po' chinata verso il basso di lei lo sguardo reclinato più sottomessa come verosimilmente era nei matrimoni di quell'epoca ma vedete davvero questo clima di mestizia potrebbe davvero essere spiegato in questo modo anche perché una studiosa in particolare ha messo in evidenza il fatto che la candela che vedete la candela che vedete la seconda da destra è completamente consumata ed è quella in corrispondenza proprio di Giovanna o Costanza quindi è completamente consumata come raccontarci di una vita che ormai è finita allora a questo punto la candela accesa farebbe riferimento forse a questo amore che prosegue e alla vita che prosegue ma solo dalla parte di Giovanni hanno il fine davvero è drammatico e misterioso ve l'ho detto che non c'erano soluzioni che non potevo offrirvi davvero una sorta di conclusione del tutto posso però raccontarvi qualcosa di certo e cioè queste meravigliose novità tecniche che Jan Van Eyck aveva messo a punto verranno portate avanti da tanti artisti in particolare in Italia vi dicevo sarà lo strepitoso Antonello da Messina a impiegare la pittura a olio e a mostrarci anche la capacità di introspezione psicologica nei ritratti che lui ci proponeva in modo molto più evidente molto più coraggioso sotto un altro completamente un altro punto di vista rispetto a Jan Van Eyck ma voglio mostrarvi un altro dipinto che risentirà direttamente dell'opera di Jan Van Eyck ed è il celeberrimo Las Meninas di Velázquez perché vi sto dicendo che c'è un legame tra i coniugi Janolfini e Las Meninas di Velázquez il riferimento diretto c'è guardate non soltanto perché adesso vi racconto i coniugi Janolfini per un certo periodo sono stati fisicamente in Spagna ma anche perché noterete che sul fondo del dipinto nella parete di fondo in mezzo a questa quadreria compare uno specchio eccolo qui lo specchio da cui si rivela la presenza di due personaggi verosimilmente il re e la regina che erano davanti al pittore Velázquez che stava dipingendo in quel momento allora tocca che vi racconti poi chiudo giuro che vi racconti la storia del collezionismo legato a questa opera cioè dove è finita come è fatta ad arrivare dove è adesso cioè alla National Gallery allora l'opera che era stata realizzata a Bruges perché gli Janolfini vivevano a Bruges passa a un certo punto a Don Diego de Guevara che era Mahordomo Mahor dell'imperatore Carlo V non l'ho letto bene ma non so spagnolo poi viene viene trasferito nella raccolta di Margherita d'Austria di nuovo il nome Margherita torna a cui viene donato e siamo sempre nelle fiandre però e lei custodirà l'opera all'interno del castello di Malin ci raccontano le testimonianze e questo rende ancora più misterioso il tutto che l'opera era chiusa da due sportelli occorreva una serratura per aprirli per aprire i sportelli e guardare l'opera che mistero perché mai per volere proprio di questa Margherita d'Austria chissà perché ha voluto tenere chiuso nascosto questa scena poi l'opera passerà alla nipote che era Maria d'Ungheria e viene testimoniata in questo caso negli archivi nella documentazione come Ernul Le Fin scritto H Ernul trattino Le trattino Fil Ernul Le Fin Ernul Le Fin quindi questa nipote di Margherita d'Austria che era Maria d'Ungheria nonché sorella di Carlo V dell'imperatore se la terrà a Sigales in Castiglia quindi siamo arrivati in Spagna l'opera poi passerà alla collezione di Filippo II re di Spagna e in Spagna rimarrà fino al 1789 quando interverranno i Bonaparte entrerà a far parte della raccolta di Carlo III di Spagna e miracolosamente nel 1734 insieme a Las Meninas di Velázquez che vi ho mostrato un attimo fa scamperà all'incendio dell'Alcazar il Palazzo Reale di Madrid in cui la quadreria era ospitata l'opera ricompare a Bruxelles nel 1815 vedete davvero che possiamo seguire la storia d'Europa ve lo promettevo all'inizio ricompare a Bruxelles nel 1815 in mano a un ufficiale inglese che era rimasto ferito nella battaglia di Waterloo non è incredibile tutto questo questo ufficiale inglese si chiamava James Hay H A Y e quindi l'opera arriva a Londra fino a che appunto verrà venduta acquisita dalla National Gallery che la esporerà dal 1843 a questo punto cominceranno solo questo momento in poi cominceranno gli studi critici comincerà la fortuna critica di Ian Van Eyck e cominceranno gli studi per dare un'identità ai due personaggi in particolare un critico d'arte importantissimo inglese che si chiama John Ruskin sarà il teorico dei pre-Raffaelliti per intenderci per primo parlerà di questo uomo e donna come un marito e una moglie ma saranno due storici dell'arte si chiamano Harcher Crowe e Giovanni Battista Cavalcaselle che prenderanno la responsabilità si prenderanno la responsabilità di trasformare Ernulle Fin in Arnold Fin identificandolo con questo Giovanni Arrigo Arnolcini arriviamo poi al momento in cui nel 1934 appunto Panofsky li identifica come momento del matrimonio che si starebbe celebrando davanti ai nostri occhi però però vi dicevo 1994 un storico della storia navale francese si chiama Jacques Paviot trova nel libro dei conti del duca di Borgogna la trasgressione di un dono che era stato fatto per il matrimonio dei coniugi Arnolfini nel 1447 due pentole d'argento a celebrazione del matrimonio 1447 1447 Mayan Van Eyck era morto nel 1441 e su quella parete di fondo c'è scritto 1434 allora ecco che torna valida l'ipotesi proposta che la scena rappresentasse Costanza 30 morta nel 1433 dicevamo forse morta di parto da cui si spiegherebbe quella famosa candela consumata che vi ho mostrato l'ultima ipotesi critica che vi voglio sottoporre ma è veramente abbastanza fantasiosa riguarda un testo che è uscito nel 2017 da parte di Jean-Philippe Postel che è un medico appassionato d'arte che avrebbe trovato delle testimonianze che rivelerebbero niente meno che nello specchio non stiamo assistendo alla vera e propria riflessione di quello che sta accadendo del riflesso di quello che sta accadendo nella stanza ma comparirebbe davanti a noi niente meno che una donna fantasma cioè se lei la sposa morta compare come fantasma perché avrebbe trovato questo medico avrebbe trovato testimonianza di queste donne che bruciavano le mani anzi il contrario lo sposo che bruciava sposo morto che bruciava la mano alla sposa è una sorta di promessa qualcuno addirittura a questo punto ha provato a proporre anche che lei fosse la moglie di Amba Nike ma insomma diciamo che le ipotesi non si non si sprecano avete visto che abbiamo cercato di dare un senso al retroscena del dipinto e non ci siamo riusciti verosimilmente vorrei lasciarvi allora con due riflessioni la prima visto che parliamo di specchio lo specchio come un occhio avete visto dal fondo della stanza lo specchio come un occhio che riflettendo la realtà ci guarda e allora forse il ruolo dell'arte che mette in scena la realtà la riflette ma di conseguenza la svela e ci fa andare oltre come se noi potessimo entrare all'interno della scena e che ne so vederne di più vi faccio a questo punto ritornare all'immagine della Smeninas di Velázquez che vi ho mostrato prima in cui c'era il pittore che guardava verso di noi e stava dipingendo con la sua tavolozza in mano e noi però siamo davanti a lui ma i due protagonisti la regina li vedevamo solo nello specchio quindi davvero è curioso non solo l'ultima riflessione con cui voglio lasciarvi è una ulteriore curiosità noterete che nello specchio non compare il cane ci sono le arance c'è il candelabro c'è tutto non compare il cane allora non so se questo sia una sorta di mancanza di fedeltà al vero oppure chissà è un ulteriore mistero che io sicuramente non riesco a svelarvi grazie a tutti